Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Klass e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. C'è una cittadina in Inghilterra che si chiama New Market ed è una cittadina che non è nata per vendere derrate alimentari, e malgrado il nome lo farebbe intuire, è nata per ospitare il mondo dell'ipica. In questo centro si lavora quasi esclusivamente con tutto quello che è l'indotto appunto legato al mondo ipico, al mondo dei cavalli e delle gale dei cavalli. E in questa città ci sono anche delle scuole, oltre che chiaramente Stalle e quant'altro serve per poter curare il cavallo, delle scuole che permettono a chi vuol diventare fantino di poter coronare il proprio sogno. Sono tanti quelli sardi che partono appunto per questo e sono altrettanti quelli che riescono ad affermarsi e stanno riuscendo a fare delle cose in grande andando a percorrere la strada che una volta era stata percorsa dal grande personaggio che è Franchi Dettori, che ancora corre insieme a loro, diventa quasi avversario e in certi casi questi ragazzi prendono anche la soddisfazione di riuscire in modo quasi irriverente, ma non lo fanno in modo irriverente, in modo quasi irriverente riescono anche a batterlo. Ecco, sulle orme di Franchi Dettori un mondo intero di ragazzi che partono anche giovanissimi dalla Sardegna e cercano di, trasferendosi in questa cittadina, di star dietro a quello che è il loro sogno. Chiaramente non partono subito cavalcando i cavalli nelle diverse gare, fanno tutta la trafila, studiano l'inglese, riescono a conoscere il mondo del cavallo, magari alla fine inizialmente cavalcano i cavalli per allenarli, per prepararli alle gare della sera, insomma si preparano pian piano, fanno il praticantato che serve poi per diventare dei grandissimi personaggi. A raccontarci tutto questo mondo stasera su Mab Business TV, ma anche sul mio canale YouTube, ci sarà Matteo Puddo, un'intervista già realizzata un po' di tempo fa che abbiamo rieditato con tutta una serie di contributi video che l'arricchiscono e che vi suggerisco di vedere a partire alle 20. direte, ma questi tre minuti sono diventati sponsorizzati? No, si tratta anche di parlare di quelle che sono le nostre iniziative soprattutto legate a un nostro sponsor, perché Mab & Co. poi è sponsor della mia trasmissione, tratta tutto, quindi fa parte assolutamente del mio mondo in questo caso. Matteo Puddo è figlio di emigrati che stanno in Toscana, che non si è assolutamente dimenticato da Sardegna. L'intervista è bellissima proprio per questo, perché è lui che ci fa una lezione di sardo e una lezione di sardità. Ed è colui che lavora, lavorando in un determinato mondo, che è proprio quello dei cavalli, si coccolo anche tutti questi personaggi che sono arrivati in Inghilterra per diventare i grani fantini. Si parlerà di Andrea Zeni, si parlerà di Stefano Cherchi, si parlerà di Marcolino Gianilinus, l'ultimo grande fenomeno che da poco, nei giorni scorsi, è stato festeggiato ad Oristano. Ricordate, ore 20, su Mab Business TV. Passione per la terra